dal vangelo secondo giovanni in quel tempo gesù disse a quei giudei che gli avevano creduto se rimanete nella mia parola siete davvero miei discepoli conoscerete la verità e la verità vi farà liberi gli risposero noi siamo discendenti di abramo non siamo mai stati schiavi di nessuno come puoi dire diventerete liberi gesù rispose loro in verità in verità io vi dico chiunque commette il peccato e schiavo del peccato ora lo schiavo non resta per sempre nella casa il figlio vi resta per sempre se dunque il figlio vi farà liberi sarete liberi davvero so che siete discendenti di abramo ma intanto cercate di uccidermi perché la mia parola non trova accoglienza in voi io dico quello che ho visto presso il padre anche voi dunque fate quello che avete ascoltato dal padre vostro gli risposero il padre nostro è abramo disse loro gesù se foste figli di abramo fareste le opere di abramo ora invece voi cercate di uccidere me un uomo che vi ha detto la verità udita da dio questo abramo non l'ha fatto gli risposero allora noi non siamo nati da prostituzione abbiamo un solo padre dio disse loro gesù se dio fosse vostro padre mi amereste perché da dio sono uscito e vengo non sono venuto da me stesso ma lui mi ha mandato la libertà più vera quella della schiavitù del peccato è scaturita dalla croce di cristo siamo liberi dalla schiavitù del peccato per la croce di cristo proprio lì dove gesù si è lasciato inchiodare si è fatto schiavo dio ha posto la sorgente della liberazione dell'uomo questo non cessa di stupirci che il luogo dove siamo spogliati di ogni libertà cioè la morte possa diventare fonte della libertà ma questo mistero dell'amore di dio non lo si capisce facilmente lo si vive gesù attua la sua piena libertà nel consegnarsi alla morte egli sa che solo in questo modo può tenere la vita per tutti la libertà rende liberi nella mesura in cui trasforma la vita di una persona e la orienta verso il bene per essere davvero liberi abbiamo bisogno non solo di conoscere noi stessi a livello psicologico ma soprattutto di fare verità in noi stessi a un livello più profondo e lì nel cuore aprirci alla grazia di cristo